Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Missione compiuta, le 11 palombari della marina militare hanno fatto brillare l'ordigno sganciato su Fano nel giugno del 1944 Per i 5 stelle il sindaco di Fano ha poco di cui vantarsi, l'emergenza è finita ma molte cose sono andate bene e non certo per merito suo Torna la neve nelle marche, sta nevicando nell'entroterra e tra martedì e mercoledì i fiocchi si potranno vedere di nuovo anche sulla costa Il quartiere di Fenile è in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Giuseppe Tintori, domenica festa con il Vescovo Trasarti e oggi partenza per la Terra Santa Dopo il telegiornale su Fano TV, la prima delle 6 puntate del grande freddo, l'album Una raccolta di oltre 6.000 tra fotografie e video inviate da voi telespettatori durante la nevicata di inizio marzo Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV Ci sono volute 6 immersioni da parte dei palombari della marina militare prima di far brillare l'ordigno bellico ritrovato nella spiaggia di Fano e risalente alla seconda guerra mondiale In questo servizio adesso vi mostreremo le immagini in esclusiva appunto di tutta l'operazione 11 e 15 di oggi, spiaggia della Sassonia Una colonna d'acqua di una trentina di metri e un boato sordo avvertono i pochi presenti sul litorale che sul capitolo bomba a Fano è stata scritta la parola fine 3, 2, 1, fine Il team di incursori palombari della marina militare guidato dal capitano di corvetta Terry Trevisan hanno portato a termine con successo la loro missione Io sono contentissimo perché è andata bene, cioè l'attività è stata fatta come pianificato E' stata una prova, è stata una prova perché come ho già detto le condizioni erano provvibitive Noi le abbiamo volute fare E' sempre un discorso di orgoglio, che è un discorso comunque di, come abbiamo detto, che andava assolutamente chiuso al prima possibile questo intervento Quindi ci abbiamo messo a tutta, è andato tutto bene, con nessun aspetto negativo Io posso dire che in questa attività sicuramente mi ha lasciato qualcosa a livello di esperienza professionale a me e ai miei uomini, sicuramente Alle 8.45 a bordo di due gommoni scortati da un'unità della guardia costiera di Fano Gli 11 uomini del Consubim sono usciti dal porto, diretti verso il luogo dove si trovava la bomba d'aereo da 500 libre Obiettivo? Arrivare sul sito allo scadere delle 144 ore per iniziare subito le operazioni per far brillare in mare L'ordigno, che in un'operazione congiunta con gli artificieri del genio dell'esercito Avevano nella notte di mercoledì portato in una zona di sicurezza a due miglia dalla costa Nella sala operativa della Capitaneria di Porto di Fano a coordinare le unità sul posto Il comandante Silvestro Girgenti Abbiamo già una motovedetta, la CP842 della Capitaneria di Porto di Pesaro Che è in fase di pattugliamento per fare attività di interdizione dello specchio acqueo circostante Due miglia, il punto di collocamento dell'ordigno Successivamente usciranno ulteriori due motovedette L'ACP 535 dell'ufficio marittimo di Fano e l'ACP 2098 della Capitaneria di Porto di Ancona Gli ci sono volute sei immersioni prima di riuscire ad effettuare le procedure necessarie A 13 metri con il mare che stava montando oggi la visibilità era pari a zero Ovvero imbragare la bomba con un pallone, portarla in sospensione a 6 metri dalla superficie E piazzare le cariche per farla esplodere 3, 2, 1, via! Alle 11.15 dopo due ore di estenuante lavoro in condizione meteomarine al limite Gli incursori della marina hanno avuto ragione del mostro Fatta esplodere prima una minicarica di rispetto per allontanare il più possibile i pesci in zona Dopo 5 minuti, una volta che i mezzi sul posto si sono portati a distanza di sicurezza La carica di esplosivo ha distrutto definitivamente la bomba d'aereo inglese Chiudendo positivamente una pagina importante della storia di Fano È stata un'avventura che poi è capitata inaspettata Do assolutamente ragione al sindaco Seri Effettivamente se tu hai una pianificazione così che funziona E la utilizzi sul momento Tu riesci ad assumere e prendere determinate decisioni Ti parte una macchina È stata da questo punto di vista Abbiamo verificato che la pianificazione c'era E può funzionare Sicuramente l'elemento concitato Il gran numero di persone coinvolte Potevano creare dei problemi Però non si sono verificati Per cui non posso che essere felice Che la pianificazione e tutto l'insieme ha funzionato Rinnovo e ringrazio pure a voi, giornali e televisioni Perché avete avuto un ruolo fondamentale 3, 2, 1, inizio! Spero che l'abbiate capito ormai Visto come sono andate le cose Insomma ve l'abbiamo fatta vedere Più volte Insomma anche perché sono immagini Inusuali che insomma non si vedono E non capita di vederle certamente tutti i giorni In molti dopo l'evacuazione post ritrovamento bomba Si sono affrettati a fare i complimenti Per la gestione dell'emergenza al sindaco di Fano Seri Lo avete sentito, l'ha fatto anche il prefetto poco fa Lui chiaramente li ha incassati Anche se a onor del vero molti di questi meriti Va detto solo da attribuire ad altri soggetti E non solo all'amministrazione comunale Ma partiamo dalla polemica che invece ha investito Il movimento 5 Stelle di Fano Sulla questione della data del ritrovamento di questo ordigno Per farlo abbiamo invitato qui in studio Il consigliere comunale Adaro Miccioli Buonasera Miccioli Buonasera a lei Allora intanto so che dopo questa vostra interrogazione urgente In consiglio comunale sono arrivate anche delle polemiche Circa la vostra osservazione Lo diciamo per chi avesse perso un pezzo Di tutta questa vicenda della bomba Cioè c'erano delle voci Che tuttora circolano Che dicono Sostengono che il ritrovamento Si è stato effettuato il giorno precedente Rispetto a quello che abbiamo detto Cioè non il martedì ma il lunedì Ora non ci sono le prove Non c'è nulla Però in molti comunque si sono affrettati a criticare Eccetera eccetera Ecco Questo perché? Beh allora Se avessimo avuto la certezza saremmo andati direttamente in procura Quindi Però diciamo Visto che appunto certezza non c'è Ma lo riteniamo questo un argomento E' una notizia insomma Importante da verificare Fortunatamente in consiglio comunale abbiamo uno strumento Che appunto l'interrogazione orale urgente Attraverso la quale possiamo avere una risposta ufficiale Rispetto a queste voci che sono arrivate da più parti E ci sembrava molto importante Giusto e anche doveroso Per la cittadinanza Fare chiarezza completa su questo aspetto Quindi insomma In effetti la mia domanda è stata anche molto semplice Sindaco si può assicurare al 100% Che il ritrovamento è avvenuto martedì 13 marzo? Il sindaco in effetti In prima istanza E' rimasto anche tra le volte contento Di poter rispondere Proprio per fugare qualsiasi tipo di dubbio E anche questo era il nostro intento Peccato che poi il giorno dopo In realtà si è presentato qui a Fano TV O anche insomma poche ore dopo Il consiglio comunale Quasi insultandoci insomma Perché volevamo fare Volevamo accusare Volevamo Volevamo Mi ha lasciato i quereli Sì voglio dire calugnare Insomma noi abbiamo solamente riportato Secondo il consiglio comunale Il regolamento Perché voglio anche leggere le due righe Di che cosa è un'interrogazione Dice l'interrogazione consiste nella domanda Scrittura rivolta al sindaco Per conoscere se qualche fatto sia vero Quindi insomma Meglio di così Non potevamo fare Dal punto di vista istituzionale E della trasparenza Della chiarezza Delle informazioni Ci sono tre considerazioni Che adesso facciamo Insieme a voi E poi vi promettiamo Che sulla questione bomba Non torneremo più La prima considerazione Innanzitutto Se l'operazione di evacuazione Quindi operazione di evacuazione Si è conclusa Nel migliore dei modi E senza grossi problemi Il merito innanzitutto È dei fanesi Fanesi che dopo aver ascoltato In diretta L'appello del sindaco Nel telegiornale Delle 20 e 30 Trasmesso qui sul canale 17 Hanno lasciato Le proprie abitazioni In modo ordinato E senza caos Secondo La macchina dell'accoglienza Ha funzionato Perché funziona Il sistema di volontariato Di protezione civile Di Fano Che da decenni È in grado di fronteggiare Qualsiasi emergenza Sia in città Che in altre zone E parti d'Italia Protezione civile E sistema di emergenza radio Che sono Possiamo dire Il fiore all'occhiello Della città Terza considerazione Ed è l'unica Cosa Che doveva fare Il sindaco Seri Forse sbagliando I tempi Ed era quello Di cercare Di convocare In tutti i modi La riunione Nel primo pomeriggio E non alle 19 Come è stato fatto Con il prefetto E le forze dell'ordine Per decidere Se evacuare Oppure no Le 23 mila persone circa Anche se Anche perché Se non ci fosse stata La tempestiva Comunicazione Della televisione locale Il comune Non avendo altri mezzi Di informazione Per far arrivare Le sue comunicazioni Istituzionali Probabilmente Sarebbe Ancora In Via l'Adriatico A suonare I campanelli E allora Il sindaco Si prende I meriti Questo va bene Però Probabilmente Non sono tutti i suoi E quindi Vanno divisi Tornando alla comunicazione Istituzionale La battuta Dei campanelli E chiaramente Per far capire Che Alle 20 e 30 Siamo andati in onda In una edizione Normalissima Del telegiornale Grazie al cielo Il messaggio è arrivato Subito A tante A tante persone Però chiaramente E qualcuno Se l'è domandato Anche voi Con il vostro parlamentare Cattoi Insomma Qualcosa probabilmente Nella comunicazione Non va Sì insomma Adesso poi Le posso anche anticipare Che domani presenteremo Proprio un'interrogazione Su questo punto Non tanto sempre No per polemica Ma anzi Per migliorare eventualmente Quello che In alcuni casi Non è andato Appunto la comunicazione Insomma Mettiamo che In una situazione d'emergenza Ci sia un black out La gente non può guardare la tv A chi si riferisce Ok Oppure anche il fatto Che il sindaco Ha invitato Per informarsi A mandare sulla sua pagina Facebook Mi sembra più quasi Una mossa Possiamo dire elettorale Che altro Perché insomma Io punterei invece Su un sito ufficiale Che è quello proprio Del comune Quello del comune Non era informato Assolutamente Solo dopo due ore e mezza È apparsa l'ordinanza Quando ormai Le operazioni erano già partite Infatti Circa due ore e mezza E oltretutto Anche la cartina Che molte persone Richiedevano Ad alta definizione Per capire bene Quali erano le zone interessate È apparsa sempre sul sito Dopo tre ore e mezza Insomma ecco Ci pare che Da questo punto di vista Le cose possono Solo migliorare Grazie a Romiccioli Adesso invece Parliamo del maltempo Maltempo che sta Ritornando Avremo un'altra settimana Di freddo Anche con neve C'è collegato con noi Dalla redazione L'esperto Il nostro esperto Francesco Cangiotti L'esperto di Geometeo.it Che vedo Ecco Già collegato Eccoci che dopo La parentesi primaverile Che ha interessato Appunto Le scorse settimane Siamo di nuovo Di fronte A una nuova fase Di tempo Dai connotati Decisamente invernali Infatti Proprio nelle prossime ore Fluirà aria Fredda Non come nell'evento Di febbraio In cui avevamo Un vero e proprio Burian Che ha interessato Il nostro territorio Ma comunque Anche in questo In questo peggioramento Le correnti Saranno abbastanza freddi Infatti Che giungeranno Temperature anche Fino a meno 7 Meno 8 gradi A 1300 metri Quindi Il freddo Si farà sentire E sarà accompagnato Appunto Anche da fenomeni Diffusi Che tenderanno Ad assumere Carattere nevoso In particolare Il peggioramento È già in atto In queste ore Infatti Nella prossima notte Fino al mattino Di domani Avremo ancora Delle precipitazioni Diffuse Che tenderanno Ad assumere Carattere nevoso Sulla dorsale appenninica Fin verso i 5 600 metri Di quota Poi domani mattina Assisteremo Ad un temporaneo Miglioramento Quindi nella mattinata Di domani Il cielo sarà Parzialmente Irregolarmente Nuvoloso Ma con fenomeni Quasi del tutto Assenti Mentre poi Nel pomeriggio Di domani Giungerà Il vero e proprio Nucleo di aria fredda Quindi la parte Più attiva Di questa perturbazione Che appunto Determinerà Una nuova intensificazione Dei fenomeni Che questa volta Risulteranno Diffusi Un po' Su tutta la regione Infatti Possiamo vedere Questa è la cartina Prevista per la giornata Di mercoledì Possiamo vedere Una nuvolosità Diffusa Su tutte le marche Con delle piogge Lungo il settore costiero E delle nevicate Che risulteranno Anche abbondanti Lungo la dorsale appenninica La quota neve Si attesterà Mediamente Attorno ai 200-300 metri E questa sarà La quota dove Al di sopra Appunto Di questi valori Si potranno registrare Degli accumuli Tuttavia Come succede In questi casi In cui Abbiamo dell'aria Molto fredda In quota Durante i rovesci Più intensi Appunto I fiocchi di neve Potranno Fare la loro comparsa Tratti Anche sui settori Costieri In particolare Proprio sull'area Nord della regione Quindi sulle nostre zone Poi anche nei giorni A seguire Fino alla giornata Di venerdì Il tempo Si manterrà Abbastanza instabile Avremo ancora L'occasione Per qualche rovescio A carattere nevoso Fino a quote Molto basse Anche se poi Via via I fenomeni Tenderanno ad essere Un pochino più Sporadici E più isolati Un ultimo ceno Anche alle temperature Che appunto Tenderanno Già sono calate Rispetto ai giorni precedenti Tenderanno ulteriormente A diminuire Appunto Proprio tra Mercoledì e venerdì Attestandosi anche Di diversi gradi Al di sotto della media Con valori che Sui settori Collinari appenninici Quindi parliamo di quote Oltre i 5-600 metri Difficilmente Supereranno lo zero Quindi ecco Sarà questa fase Abbastanza Di un freddo Abbastanza intenso Ma non Così eccezionale Bene Grazie a Francesco Cangiotti Di Geometeo.it Adesso a Marotta Perché oggi sono iniziati I trasferimenti Dei servizi distrettuali Della sede Di Marotta Dell'Asur Marche Area Vasta 1 Attualmente collocati In via Ferrari Verso la nuova sede Situata in Viale Europa 1 Nei locali Della Croce Rossa Italiana Che già ospita La postazione Del 118 Nel trasloco Sono esclusivamente Coinvolte Le attività Presenti Attualmente Nella sede Di via Ferrari Nella fase di trasloco Il principale servizio Interessato Cioè il punto Prelievi Rimarrà chiuso Al pubblico Solo giovedì 22 marzo E riaprirà Unitamente Alle altre attività Senza modifica Di orari Lunedì 26 marzo Nella nuova sede Proseguono Le attività Dei tecnici E dei geologi Di ANAS In corrispondenza Della frana Che ha interessato La strada statale 73 bis Di Bocca Trabaria Nel comune Di San Giustino In prossimità Del confine Umbro-Marchigiano Tra le province Di Perugia E Pesor Urbino In particolare Sono al momento In corso Rilievi e sondaggi Geologici Necessari Alla definizione Dello scenario Di intervento E alla successiva Progettazione Dei lavori Di ripristino Il dissesto Interessa Il versante In corrispondenza Del chilometro 600 Sia a monte Che a valle Della carreggiata Stradale In continua Evoluzione E pertanto Al momento Non chiaramente Circoscritto La scorsa notte La frana È progredita Coinvolgendo Parte Della carreggiata Stradale Una volta Terminate Le attività Di rilievo E diagnostiche Sarà E sarà possibile Avviare La progettazione Dei lavori Di consolidamento E di ripristino Anas raccomanda Dunque prudenza Alla guida È stata celebrata Sabato scorso Nella chiesa Dei santi Pietro e Andrea Nel quartiere Di Fenile Affano La santa messa Di ringraziamento Per i 50 anni Di sacerdozio Del parroco Don Giuseppe Tintori Preseduta Dal vescovo Armando Trasarti Che si è anche emozionato Nel raccontare Le doti Pastorali Di Don Giuseppe Nominato Vicario generale Nel 2008 Presenti E festeggiamenti Parrocchiani Di Fenile Gli ex Di Montefelcino Dove Tintori È nato I collaboratori Di Milano E della Svizzera Dove ha trascorso Un periodo pastorale Al servizio Di migranti E dei fedeli Di Sant'Orso Dove Don Giuseppe È stato parroco Per nove anni A sottolineare Il momento di festa Anche le notte Della banda Di Montefelcino E oggi Don Giuseppe Partito insieme Ad altri parrocchiani Per un pellegrinaggio In Terra Santa E adesso apriamo Come ogni lunedì La pagina sportiva C'è con noi In studio Matteo Del Vecchio Grazie Marco Buonasera a te E i telespettatori Di Fano TV Weekend sportivo Da incorniciare Per le squadre fanesi A cominciare dall'Alma Che pareggiando in casa Ieri con la San Benedettese Ottiene un importante punto In chiave salvezza Finisce 1-1 Il derby del Mancini Tra due squadre Che si affrontano A viso aperto E che non sembrano avere 21 punti di differenza In classifica Di questo va dato merito Al Fano Che nonostante occupi Ancora l'ultimo posto Sta dimostrando Di voler restare Aggrappato con le unghie Alla serie C I primi squili di tromba Sono proprio dei padroni Di casa Che con Lazzari E Fioretti Chiamano in causa La Samp Non sta a guardare E trova anche La via della rete Al diciottesimo Annullata però Per un presunto fuorigioco Tre minuti dopo È germinale Da andare vicino al gol Mentre al trentacinquesimo Tomi Spreca per la Samp Un interessante calcio Di punizione La posta in paglio E il terreno pesante Rendono la contesa Ancora più maschia E il primo tempo Più che da palle gol È caratterizzato da falli E mezzerisse L'ultima A fine primo tempo Innescata da un fallo Di Bellomo Su Fioretti Lo 0-0 Con cui si chiude La prima frazione Viene sbloccato Al sesto della ripresa Proprio da Fioretti Che con una perfetta Conclusione al volo Trasforma in gol Il magico assist Di Germinale Il vantaggio Granata Resiste fino alla mezz'ora Quanto Gelonese È abile a ribadire in rete La corta respinta di Tiam Sul colpo di testa Di Miceli L'ultima emozione Del match La regala Lazzari Che al trentaquattresimo Fa fare bella figura All'estremo difensore ospite Perina Che vola sulla sventola Da fuori area del Fanese E Blinda L'1-1 In classifica Cambia poco nulla Con l'Alma Sempre ultima A meno 2 Da Sant'Arcangelo Che ieri ha fermato Sul 2 pari La Triestina E a meno 4 Dal Gubbio Sconfitto per 3-2 A Reggio Emilia Da quella reggiana Che mercoledì Farà proprio visita Alla formazione Di mister Oscar Brevi Per una sfida In notturna Determinante In chiave salvezza E in chiave salvezza Una vittoria fondamentale Anche quella conquistata Ieri dalla Givan Virtus Nel campionato di Serie B Di Volley Grazie al 3-0 Sul fanalino di coda Rovelli Morciano Manca ormai solo La certezza matematica Alla squadra di coach Andrea Radici E del presidente Giacomo Iannelli Per festeggiare La permanenza Nella Serie B nazionale Che da neopromossa Sarebbe sicuramente Un risultato Di cui andare orgogliosi Intanto ieri Di fronte al consueto pubblico Delle grandi occasioni Tre punti è bel gioco Per i fanesi Che soffrono solo Nel primo set Portato a casa A fatica Per 26-24 Senza storie Secondo e terzo parziale Con festa nella festa Grazie al primo punto Di capitano Andrea Mazzanti Che chiude con un lungo linea Il secondo parziale Segnando il punto Del 25-20 Ancora più netto Il dominio nel terzo Questa volta vinto Per 25-17 Grazie al punto decisivo Del giovane Gianluca Guccioni Che attesta la Virtus Al quinto posto E dal parquet del volley Ci spostiamo a quello Del calcio a 5 Per registrare Il quasi unplay Delle squadre fanesi Impegnate nei campionati nazionali Vittoria tanto sofferta Quanto importante Per il Flaminia Nel campionato di Serie A2 Femminile L'1-0 Siglato da Valentina Falcioni Con cui le ragazze fanesi Superano il Real Fenice Consente al team Di Giacomo Grandicelli Di mantenere il primato A più uno Dalla Noalese Squadra Cui domenica prossima Faranno visita Alle ragazze Di Alessandra Imbriani Per un big match Determinante Per il proseguo della stagione In Serie B maschile Colpo esterno Dell'età beta Che grazie al 5-3 Di Perugia Mantiene la quarta posizione In classifica Con un margine di più 6 Sulle inseguitrici In chiave playoff Mattatore della sfida Umbra Il brasiliano Marcello Lorenzete Autore di una tripletta A completare il tabellino Ismail Ettai E Matteo Bei Pareggio che sa di vittorie Invece per l'Alma Juventus Che pur senza ambizione Di classifica Ferma sul 3-3 La capolista Tenax Castelfidardo Grazie alle reti Di Federico Rondina Alessio Padriviani E Damiano Giuliani E cambiamo decisamente argomento Ora parliamo Dei campionati italiani Di atletica leggera Paralimpici Organizzati dalla Fisdir E dalla Fispes Non smette di stupire Il non ancora sedicenne Fanese Lorenzo Marcantonini Che si conferma Campione italiano Dei 200 metri indoor Categoria T63 Conquistando anche Il nuovo record italiano L'atleta fanese Che come noto Fa anche parte Della nazionale Di calcio amputati Ha fermato il cronometro A 33 e 17 Ricevendo a fine gara Anche i complimenti Di Sandrino Porru Presidente nazionale Della Fispes E la chiusura Di questa sera Dedicata al nuoto E ai campionati regionali Assoluti Che si sono svolti Nelle scorse settimane A Fabriano e Pesaro Circa 300 atleti E 20 società Hanno preso parte Nelle scorse settimane Agli assoluti regionali E tra questi 15 erano Della Fanon Fortunae Che torna dalle due spedizioni Con sei medaglie Grazie a Nicola Bellagamba Bronzo nei 100 e 200 Dorso Signores Matteo Memè Bronzo nei 400 Stile Libero Ragazzi E Valeria De Leo Argento nei 200 e 400 Misti Juniors E bronzo ieri Nella gara di gran fondo Dei 5000 metri E questa era L'ultima notizia Di questa sera Io come faccio sempre Vi ricordo l'indirizzo mail Al quale inviare Le vostre comunicazioni Che è sportchiocciolafanotv.it Per questa sera è tutto Grazie come sempre Per l'attenzione L'appuntamento con lo sport Torna lunedì prossimo Buona serata Bene grazie a Del Vecchio Per la pagina sportivo Per la pagina sportiva Dunque come già annunciato Questa sera inizia la prima Delle sei puntate dedicate Al grande freddo L'album Un album che abbiamo realizzato Grazie ad oltre 6.000 fotografie E video che ci avete inviato Durante l'emergenza neve Quella dei primi di marzo Ebbene saranno 6 serate A partire da questa sera Di un'ora circa E quindi a voi tutti L'augurio di una buona visione Noi ci vediamo domani mattina In diretta Alle 7.30 Con la rassegna stampa Arrivederci Arrivederci